buongiorno a tutti da nicola castiglione dalla selezione nazionale piloti e benvenuti a un nuovo appuntamento con racing time il tg dei motori dunque un saluto a ecchecheria che ci ha fornito queste splendide polo lo ringraziamo e niente benvenuti alla puntata 1181 oggi è una puntata parecchio particolare perché bisognerà usare come ho fatto spesso il bilancino ragazzi il bilancino però cercherò di essere quanto più chiaro possibile anche perché già oggi siamo a martedì quindi ci ho capito un po di più rispetto a tutto ciò che abbiamo visto in spagna quindi adesso la sigla e poi la puntata sigla dunque eccoci qua allora ieri avevamo parlato di quali potevano essere i possibili problemi che la ferrari ha trovato in spagna e allora ho cercato di capirci qualcosina in più utilizzeremo anche qualche video per far capire qualcosa un po a tutti perché in realtà è saltata fuori una cosa abbastanza importante che spero come dire venga allungata da qui a brevissimo diciamo che non sono felicissimo ecco neanche troppo triste però perché secondo me è una cosa che si può arginare però diciamo che si è accorciato qualcosina vi spiego subito allora per quel che riguarda la ferrari in spagna controllo materiali e ok controllo quote e corrispondenze è andato bene e allora che cosa è cambiato è cambiato è cambiato che io mi immagino quindi attenti bilancino queste sono delle supposizioni delle mie immaginazioni che probabilmente la coperta si è un po accorciata e non dipende tutto ciò dagli aggiornamenti introdotti e allora voi vi chiederete allora che cosa dipende facciamo una piccola analisi come al solito una passeggiatina insieme cambiamo per un attimo stanza e vi faccio vedere quello che è successo in in quella che io definirei la curva chiave dove nascono tutti i problemi e grazie a dio curve così ce ne sono poche nella rimanente parte del mondiale quindi ci sono se non sbaglio altre dieci gare da disputare ecco di curvoni così non ce ne sono tantissimi e questa cosa qua oggi se ci avete fatto caso l'ha detta anche carlos sainz come invece vasser ha detto che hanno avuto delle buone corrispondenze con gli aggiornamenti e non è da ricercare lì il problema che hanno avuto a me devo essere sincero sembrava una dichiarazione di comodo farò delle pause un po più lunghe perché ripeto devo usare il bilancino e una dichiarazione un po di comodo ma in realtà è così è veramente così e allora andiamo nella snp high tech e bla 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 così vi faccio vedere qualcosina spostiamoci ovviamente ci spostiamo in diretta non è che sto facendo montaggi e un click allora guardate che cosa vi faccio vedere quello che stiamo per osservare è la fp1 la ferrari in fp1 che questo tipo di problema ce l'ha avuto con tutte e due i piloti anzi è bene fare una puntualizzazione nessun problema di porpoising però da quello che potete vedere effettivamente il bouncing c'era e mi è stato anche come dire me lo sono immaginato che sia andato esattamente così ma qui abbiamo modo di vederlo quindi vediamolo subito guardate qua siamo in uscita da curva 2 guardate vedete questi questi piccoli sobbalzi dell'anteriore ora guardate la lateralmente la monoposto ci sono anche al posteriore vedete nella parte terminale del marciapiede la vettura tocca per terra la vettura tocca per terra c'è poco da fare ragazzi è così la vettura tocca per terra scusate se l'immagine va un po a scatti è stata rallentata è stato fatto tutto però vedete dietro è incollata a terra come spesso è successo di vederla quest'anno però stiamo notando questo ora blocchiamoci un attimo ritorniamo di là e facciamo una considerazione se questo fenomeno ce l'aveva avuto solo science allora tu dici ok sono gli aggiornamenti ma in fp1 anche leclerc ha sofferto di questa cosa e se non mi vedete credete io troverò il modo di farvelo vedere di dimostrarvelo quindi che cosa succede succede quando faccio pause ricordatevi succede che leclerc non c'aveva gli aggiornamenti a parte l'ala ma l'ala è un qualcosa di specifico per quel circuito ma gli aggiornamenti in vettura non c'erano nella vettura nella macchina di leclerc in fp1 e questa che abbiamo visto è la fp1 perché leclerc aveva il vecchio fondo vecchio diffusore vecchie pance quindi se aveva pure lui questi problemi la natura di questi problemi non è da ricercare negli aggiornamenti ora voi direte però ok aspetta perché la ferrari ha avuto anche come ci hai fatto vedere tu problemi in curva aspetta che non devo sbagliare più 9 e soprattutto in curva 14 ci arriviamo piano piano ricambiando stanza andiamo a vedere quello che già succede in fp2 o no scusate in fp3 in fp3 le immagini che vedrete tra un attimo sono quelle dell'fp3 dove attenzionate se c'è ancora questo problema e poi vi faccio vedere anche un'altra cosa guardate qui allora qui siamo in uscita da curva 2 e in inserimento di curva 3 se ricordate una cosa praticamente il nostro marco aveva detto che tutti facevano curva 3 in pieno completamente in pieno invece la ferrari no non l'ha fatta mai curva 3 è una curva dove tu hai una velocità d'uscita di più o meno 220 chilometri orari quindi è una curva medio veloce o se preferite veloce d'accordo però il gergo viene definita una curva medio veloce più tendente al veloce perché una curva da 250 e una curva veloce una curva da 2 10 220 e una curva medio veloce ora che cosa succede che questa curva medio veloce tutti la fanno a manetta in ferrari alzano il piede e da un certo punto in poi non in fp1 science ma poi ora ve lo faccio vedere la macchina diventa leggermente instabile nella parte finale della curva andiamo ad osservare il comportamento della ferrari vedete al di là del fatto che il video va a scatti però la vettura un po più alta adesso ve ne state accorgendo non tocca più per terra quello che è la fine del marciapiede del fondo che invece poco fa toccava per terra quindi in ferrari che hanno fatto hanno alzato la vettura ma non solo non solo ragazzi sono stati costretti per non fare questo che non è porpoising ma è bouncing a irrigidirla un pochino evidentemente no pensiamo ci guardiamo un po attenzioniamo un po l'uscita da questa curva siamo già in settima marcia vedete in questo preciso istante come il posteriore ragazzi il posteriore abbia un po aperto la propria traiettoria verso l'esterno ecco quello è il momento in cui si perde quello è il momento in cui tu perdi e quello è il momento in cui tu sei a 220 più o meno chilometro orari magari ancora non ci è arrivato quello è il momento in cui la vettura deve stare molto bassa per essere efficiente se più alta la perdi ora questa curva è la madre di tutti i problemi in casa ferrari perché vi dico questo perché per andar bene qui per andar bene poi in curva 4 dove qualche problemino c'è stato pure si è dovuto sacrificare quello che è un po la guidabilità della vettura ecco da qui dove sono nati tutti i problemi a curva 10 11 e 12 cioè dei curvoni o delle curve più o meno mediolente perché perché dal punto di vista meccanico hanno dovuto irrigidire la vettura e il fatto che l'eclare a un certo punto si è messo a stravolgerla completamente ci fa capire che è andata esattamente così però qual è il dato positivo che questo stravolgimento che ha fatto lui a dispetto di quello che dicono le male lingue che i due piloti ferrari non sanno dare le le giuste indicazioni agli ingegneri ebbene questo stravolgimento ha iniziato ad aprire dei sorrisi che poi noi abbiamo visto con quel secondo stint in gara dove la ferrari effettivamente è stata competitiva però il problema è che si è accorciata probabilmente la coperta da qui nasce la vostra domanda perché si è accorciata la coperta le risposte sono due la prima accontentatevi la seconda è che barcellona ha una serie di curve molto particolari e qui torniamo a curva cercate di seguirmi col ragionamento a curva 14 dove la ferrari pagava 5 km orari e soprattutto alzavano tanto il piede perché perché erano più alti quindi se noi il ragionamento può essere questo se noi togliamo questa tipologia di curve cioè il tornando in toni velocissimi a lunga percorrenza allora diciamo che a curva 14 la ferrari ci arriva come tutti gli altri cioè vola però siccome ci sono anche questo tipo di curva barcellona e allora si è avuto questo problema con questo non voglio dire che la ferrari ha risolto tutti i suoi problemi assolutamente no perché ripetiamo e questa coperta non è larga ecco mettiamola così come quella della mclaren però la cosa positiva qual è è che più o meno con lo stravolgimento che ha fatto le clare che poi risultato più competitivo di science quindi era più confidente in vettura già si è indicata la strada corretta che poi dovrà essere come dire confermata dal lavoro che lui oggi lui solo lui oggi è andato a fare al simulatore in vista del prossimo gran premio quello del canale del sì ciao del canada sono pazzo quello dell'austria tu voi pensate che poco fa volevo chiedere di curva 3 a un amico delle info e gli ho digitato 7 e poi arrivavano dei dati che dicevo ma non combaciano per niente certo io ho scritto 7 quindi vedete un po come sto messo però vi faccio una promessa sta settimana deve passare dopo avrò ritmi umani però qui questa settimana abbiamo iper mega impegni quindi questi ce li dobbiamo tenere e non per lamentarsi sono contento perché alla fine se ci sono tutti questi impegni vuol dire che qualcosina di buono nella vita lavorativa la stiamo facendo quindi non è affatto una lamentela tornando a noi al lavoro che sta facendo ora lecler leclerc oggi sta cercando conferme al simulatore che non ha cannato il simulatore era ok d'accordo cercando conferme al simulatore e vedere di riallungare un po questa coperta considerando il fatto che l'austria un po diversa dalla da barcellona però poi c'è dopo silveston e quindi a quel punto lì bisogna farsi trovare pronti e poi c'è sempre un problema di fondo di questa vettura ed è un problema che non è stato ancora risolto ovvero le qualifiche quello probabilmente un problema che si ci potrà mettere qualche pezza ma che ci si trascinerà fino alla fine quindi questo mi preoccupa per la stagione perché se tu parti davanti il ritmo lo imponi tu ma se tu parti dietro quando recuperi più questa è la mia preoccupazione in tutto questo discorso che ho fatto perché io sono convinto che un pochino sta coperta riusciranno ad allungarla però è il quanto che mi preoccupa e quanto questo possa influire le qualifiche che poi al momento è la cosa più importante il punto di forza l'anno scorso il punto debole quest'anno bene dai che mi sono dilungato diciamo che non tutte vabbè dai veloce veloce vi do le altre notizie ricordate questa scena siamo in canada se non erro fp2 verstappen è costretto a scendere a piedi uniti saltando dall'auto danno all'ers probabilmente ragazzi quel danno all'ers ha danneggiato anche il termico quindi unità motrice 3 che era stata montata nuova bye bye non è ancora tornata dal giappone quindi non è un buon segnale questo a barcellona hanno messo la 4 questo significa che dovranno cambiare e quindi andranno in penalità ma non vi preoccupate che anche qualche altro team purtroppo ci finirà quindi questo qui non è solo un problema in casa red bull ripeto anche qualche altro team potrebbe finire potrebbe finire in penalità per cambio e di power unit perché si andrà alla quinta poi aspettatevi prima del gran premio d'inghilterra un probabile annuncio ufficiale di berman in casa as per il 2025 dal punto di vista dei designs c'è qualche inaspettata novità perché forse rientra in ballo un altro team però è troppo presto per discuterne non voglio prima voglio accertarmi bene che sia così poi vi faccio vedere curva 9 e curva 10 in austra praticamente che cosa è successo se vi ricordate ve l'avevo un po' anticipato circa un mesetto fa avrebbero messo della ghiaia in uscita dalle curve ora che succede la ghiaia l'hanno messa mantenendo però la parte asfaltata ma la cosa fondamentale è che se il pilota esce perde in maniera naturale e non c'è bisogno di fare 1199 track limits perché hanno superato la linea bianca si perde in maniera naturale e via e poi infine l'ultima notizia riguardo a logan sergeant che 99 su 100 il prossimo anno debutterà in formula indie quindi sicuramente finisce la sua avventura è già tanto che arrivi a fine anno in questo 2024 2025 dovrebbe correre in america e ha quasi trovato un accordo il team dovrebbe essere italiano però se mi chiedete se contentissimo di questa cosa qua io vi dico nì il nì è un po sì per lui perché mi dispiace sempre quando un pilota non va bene e il no è perché io quel sedile lo darei a dei piloti che forse potrebbero esprimersi un po di più rispetto a logan tutto qua bene ragazzi se vi è piaciuto il video lasciate un like un commento condividete il video sui vostri social iscrivetevi al canale attivate la campagna in linea se ancora non l'avete fatto vi ribadisco con ritorno alla promessa che vi ho fatto dalla prossima settimana ci dedichiamo all'abbigliamento anche questo snp con tutte le nostre cose le spedizioni usciremo fuori con la classifica ricordatevi di commentare perché comunque i vostri commenti non passeranno inosservati e ci saranno i sorteggi per chi comunque ha partecipato conto di premiare ma forse anche 40 persone dai i primi 20 e poi 20 a sorteggio e nulla questo è quanto scusatemi se non sono molto attivo con i commenti ma devo scappare immediatamente al lavoro bacio grande ci sentiamo alla prossima cioè tra un pochino se dio vuole ci sarà un intervento di rizzitelli sul fondo mclaren di cui abbiamo discusso ieri e perché no ve lo spoiler o su quello che è la mettisco così si vede e che che dia su quello che è il terzo elemento tanto discusso in casa red bull perché io qua mi sto accorgendo che ci sono tante cose ufficiali e tante cose ufficiose ufficiose alcune delle quali uno è costretto a usare un po di immaginazione ciao raga alla prossima